Ci spostiamo adesso sul litorale adriatico a Campomarino Lido, abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini che lamentano problemi nella raccolta rifiuti, la questione riguarda essenzialmente la rimozione di molti cassonetti. Le segnalazioni che arrivano da Campomarino Lido sono abbastanza precise, coadiuvate anche da qualche video amatoriale girato con il telefonino. Numerosi cittadini entrano in merito alla raccolta dei rifiuti che diventa problematica già in estate quando la popolazione residente aumenta notevolmente ma addirittura difficile quando come adesso in inverno si tolgono i cassonetti in strada facendone restare attivo soltanto quello di via Kennedy che diventa l'unico posto in cui con la debita tessera poter conferire i propri rifiuti. La questione è legata al concetto che nella stagione invernale i cittadini residenti a Campomarino Lido diminuiscono e quindi non è più giusto né adeguato mantenere attivi tutti i punti di raccolta sistemati nei vari luoghi e di salvarne soltanto uno da diventare il punto principale ed unico di raccolta. La situazione segnalata è invece molto diversa perché mostra una condizione di raccolta sicuramente critica che forse necessita di una ulteriore attenzione ed un'analisi magari più accurata al fine di individuare altri ulteriori punti di raccolta dei rifiuti che altrimenti vengono abbandonati rischiando di mostrare una realtà molto ma molto problematica. Grazie Grazie Grazie